Boom di richieste in Toscana per il bonus da 60 euro per i trasporti, le cui domande si sono aperte nelle scorse ore. Solo nel primo giorno si stima che siano state circa 12.000 le persone ad iscriversi sul portale del Governo per farne richiesta. Una corsa al bonus, che non è stata rallentata da alcune criticità nell'inserimento dei dati da parte del Ministero. Per ottenere il voucher è necessario accedere al sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, www.bonustrasporti.lavoro.gov.it tramite SPID o carta d'identità elettronica e scegliere Ricorda Autolinea e Toscana. Dall'elenco dei gestori del trasporto pubblico, il codice operatore Toscana e SPA, codice assegnato dal Ministero che identifica Autolinea e Toscana. A breve verrà modificato in Autolinea e Toscana e SPA. Entrambi i codici sono corretti. Una volta ottenuto il bonus trasporti, dovrà essere utilizzato entro il mese di emissione. Può farne richiesta. Chi ha reddito ISEE nel 2021 sotto i 35.000 euro. Grazie a tutti.